Napoleone Bonaparte nacque ad Aiaccio il 15 agosto del 1769. Il 22 ottobre del 1784 lasciò la scuola militare di Brienne col grado di cadetto. Nel settembre del 1785 fu promosso sto tenente, nel 1793 fu promosso generale, nel 1799 fu promosso primo console, nel 1804 si promosse imperatore, nel 1805 si promosse re d'Italia. E chi non ricorderà tutte queste date sarà bocciato. C'era una volta un imperatore, si chiamava Napoleone, e quando non aveva torto, di sicuro aveva ragione, Napoleone. Napoleone era fatto così, se diceva di no, non diceva di sì. Quando andava di là, non veniva di qua, se saliva lassù, non scendeva qua giù. Se correva in lato, non faceva il caffè, se mangiava un biglietto, non contava per tre. Se diceva di no, non diceva di sì. Napoleone andava a cavallo, e la gente lo stava a vedere, e quando non andava a cavallo, e quando non andava a piedi, era proprio un cavaliere, Napoleone. Napoleone era fatto così, se diceva di no, non diceva di sì. Quando andava di là, non veniva di qua, se cascava di lì, non cascava di sì. Se faceva tutto, non diceva però, quando apriva l'obro, non chiudeva il compo. Se diceva di sì, non diceva di no. Di tutti gli uomini della terra, Napoleone era il più potente, e quando aveva la bocca chiusa, non diceva proprio niente. Napoleone. Napoleone era fatto così, se diceva di no, non diceva di sì. Quando andava di là, non veniva di qua, se saliva lassù, non scendera appassù, se correva in là, non faceva il caffè, se mangiava di niente, non portava di freddo, se faceva pipì, non faceva proprio. Anche lui dove fè, anche lui dove me, se diceva di no, non diceva di sì. Un because when andava di no, non c'è の sky. Grazie a tutti.